ciao ragazze e ragazzi vi mostro tutti i prodotti che mi sono arrivati questa sera uno in primis questo che mi ha omaggiato mia figlia mi ha fatto una bella sorpresa non ha regalati lei e sono queste tinte labbra stupende se l'è presa anche lei su amazon sono bellissime non ve le svolge tutte il mostro e durano perché lei ne aveva su uno oggi l'avevo applicato e è venuto a casa con il rossetto ancora c'è adesso da stamattina ed è questo che non sono solo tonalità che aveva applicato mia figlia delle labbra bellissime non come devo averlo ho messo questa tinta di christian dior l'ho messo senza guardarmi allo specchio dovete scusare e questo comunque molto bello sono le labbra sono tutti bellissime guardate mi ha fatto veramente una bella sorpresa per essere questa la trovate su amazon hanno come profumazione scusate che non sono molto comoda come profumazione ed anguria tipo anguria finalmente mi è arrivata nabra mia adorata palette l'ultima volta che ha fatto di brillantini e poi le tengo tutte dentro qua perché se mi si rompono e sono queste non le ho provate perché mi sono arrivata da poco vediamo questa com'è che belli questa terra non affondo perché sono burrose non sono sembrano così ma fondamentalmente sono burrose io le ho tutte perché ho voluto prendere questa anche perché sono veramente belle e sinceramente meritano le vedete così perché hanno approfondito col colpastrello e questa e l'aspettavo proprio poi ho preso un kit da cinque pezzi mi deve arrivare quello poi ho preso su un ottino ragazze questi pennelli stratosferici vedete sono arrivati in una scatola così grande confezionate tutti confezionati bene ma sono spettacolare poi comodi vinto quasi di stallo mamma mia sono di una morbidezza e il packaging anche mi piace tantissimo io adoro questo pennello qua ne avevo tanto bisogno li ho visti su amazon sei ciao no sì ne avevamo gli cercavo quindi dei pennelli li avevo visti su amazon e avevano di quei prezzi si sa che i pennelli posti queste siamo non so come lo siamo capitati su notino ho visto questi il prezzo era fantastica non chiedete quant'è che non lo ricordo comunque se andate a nessuno che non li trovate ancora ho guardato il packaging ho guardato il prezzo e tutto quanto ho detto questi sono miei subito al volo infatti guardate sono proprio belli non li ho ancora lavati ovviamente sono arrivati da poco però penso che siano il top anche questo per il fondotinta una meraviglia questo per il blush fatto un po sono dei bei pennelli e questo per la terra un puloso sono troppo belli ragazzi che dire sono contenta adesso a random dovrà arrivare tutto quello che potete queste sono molto felice comunque è davvero secondo me è una garanzia e nulla niente sono molto felice di questo e dando un bacione buona serata ciao